buongiorno a tutti oggi vedremo una delle più belle partite di altissimo livello che secondo me sono state giocate nel 2020 nel 2020 diciamo che sono stati molto meno tornei del solito ma alcuni super tornei dell'elite sono stati giocati ed è stato giocato un torneo in norvegia che si chiama norway chess classic dove giocavano i primi giocatori del mondo e alcuni giocatori locali un esempio in questa partita avremo e tari arian un giovane norvegese con due con più di 2600 punti elo e il numero due al mondo fabiano caruana che si scontrano al primo turno del torneo caruana 200 punti in più ma questi livelli vincere da nero ricorre diciamo uno sforzo notevole contro chiunque perché tutti giocano bene il vantaggio del bianco è molto importante vediamo come caruana innoverà una variante di apertura giocando un potentissimo sacrificio di lungo termine dopo e4 di tari caruana ha giocato c5 normalmente per esempio nei candidati caruana ha giocato soprattutto e5 che è una variante un po più piatta diciamo è un'apertura un po più piatta che va bene soprattutto quando si gioca quando va bene la patta per esempio nei candidati patta da nero e vinci da bianco una strategia che può portare a vincere il torneo qua in questo torneo corre fare molti più punti per vincere mini caruana gioca la siciliana e su cavallo f3 e6 d4 c per d cavallo per d bianco gioca la siciliana aperta cavallo c6 cavallo c3 caruana gioca la siciliana taymanov questa siciliana taymanov è una siciliana in cui ok il piano del nero potrà essere giocare a6 b5 alfiere b7 espandersi nell'alla di donna c'è da dire che il nero potrebbe rimanere un po indietro con lo sviluppo ma ha più pedoni centrali e questi pedoni centrali sono il bianco ha più spazio ma il numero di pedoni del nero nel centro di più quindi c'è la colonna c aperta strategicamente un'apertura molto complessa e molto squilibrata qua le linee principali sono non so alfiere e3 con l'idea di creare un attacco inglese giocare una partita con arrochi contrapposti una delle mosse principali della teoria ma quatari gioca g3 giocando la variante di fianchetto che è considerata una delle varianti più solide qua adesso i giocatori seguono la teoria urana gioca a6 alfiere g2 cavallo f6 arroco caruana semplifica per sviluppare l'alfiere con tempo ecco a questo punto tari gioca una contromossa che è alfiere f4 il cambio delle donne favorirebbe il bianco in questo finale perché ci sono dei buchi delle case deboli per il nero per esempio di 6 l'alfiere in c8 non esce molto facilmente quindi caruana continua a svilupparsi giocando d6 annullando la minaccia contro la sua donna e mantenendo la minaccia contro la donna bianca e creando caselle per questo alfiere a questo punto tari gioca donna d2 possiamo vedere che caruana ha ottenuto uno sviluppo notevole ha fatto uscire l'alfiere fuori dalla struttura ha potuto giocare d6 ma potrebbe esserci come rischio la debolezza del pedone in d6 che potrebbe diventare una debolezza su colonna aperta ovvero il bianco potrebbe accingersi ad attaccarlo il commosso come torre di 1 pedone in d6 potrebbe diventare un pedone arretrato per distogliere un po l'attenzione dei petti bianchi dal pedone in d6 si può giocare e5 cosa che ora forse non è molto buona perché il bianco gioca alfiere g5 con l'idea di prendere in f6 e occupare la casella in d5 ci sono anche appunto l'idea di rovinare la struttura nera nell'ala di re e il nero non starebbe molto bene quindi caruana gioca h6 in modo da poter spingere in e5 alla prossima mossa senza permettere alfiere g5 per via del pedone anche tari continua con la pressione sul pedone ora il pedone sotto attacco quindi caruana gioca h6 alfiere g5 ecco questa è una posizione che ho studiato molti anni fa è stata trattata in numerosi libri ci sono dei il metodo tradizionale qua è che non si può prendere in e3 si può giocare alfiere g6 anche se il bianco ha un leggerissimo vantaggio magari il bianco può prendere il nero prende il bianco occupa la casella in d5 dopo alfiere per e per il bianco ha un pedone passato che può diventare sostenuto e la posizione è abbastanza migliore per il bianco che gioca senza grandi rischi c'è anche un'alternativa più recente che alfiere b4 che viene trattata in un recente libro di un giocatore greco fortissimo pavlidis che tratta della taimanoff ma tutte queste cose devono essere state contemplate da tari che sa la teoria questi giocatori forti come caruana devono inventare la propria teoria ecco qua caruana gioca una mosse quando l'ho vista non solo a me ma anche i commentatori in diretta mi sembra che erano kramnik e judith polgar quindi judith polgar la più forte scacchista femminile di sempre kramnik non ha bisogno di presentazioni anche lui è stato campione del mondo che loro erano rimasti a bocca aperta dopo alfiere per e per e 3 fa rimanere a bocca aperta perché il bianco non prende di donna se il bianco prende di donna il nero si sviluppa poi arroccherà mette la torre in d8 la torre in c8 spingerà il pedone in b5 con buon gioco perché il bianco gioca f per e3 aprendo la colonna f il pedone in d6 rimane in presa e quindi la teoria ha insegnato questa variante non si può giocare perché il pedone in d6 è in presa e si perde il pedone quindi alfiere per e3 prima che caruana ha giocato non si può fare questo è l'insegnamento della vecchia teoria infatti re e7 con l'idea di difendere il pedone due volte e organizzare un arrocco artificiale fallisce per via di torre per f6 due punti esclamativi eliminando il difensore della casa in d5 in cui avverrà un doppio sia dopo g per f6 sia dopo re per f6 c'è un attacco doppio si perde la donna e quindi caruana cosa ha fatto impazzito ha giocato una cosa che non si può fare perché non si può difendere il pedone in d6 in realtà ecco spesso siamo materialistici ma il materiale è solo uno dei vari fattori per valutare la posizione è solo uno dei vari fattori che devono essere ponderati insieme per ottenere una valutazione corretta della posizione e quindi caruana gioca un metodo nuovo che lascia tutti di stucco gioca alfiere 6 ignorando la minaccia contro il pedone di 6 una cosa pazzesca no per questi livelli che dopo 14 mosse il nero stia giocando con un pedone in meno stia giocando una variante teore il numero 2 al mondo una variante teorica che si considera sbagliata ecco diciamo che caruana in collaborazione col suo secondo su analista l'ex campione del mondo casinzano che aveva scoperto quest'idea qualche giorno prima del torneo l'ha fatta vedere a caruana che era rimasto entusiasta come lo stesso caruana ci aveva raccontato dopo questa partita nella conferenza stampa non aveva in mente una un compenso forzato un ritorno immediato per l'investimento del pedone ma voleva giocare semplicemente in modalità compenso di lungo termine tra l'altro giocare in modalità compenso di lungo termine ovvero non cercare qualcosa di immediato ma avere benefici posizionali che possono consistere in una migliore attività in una migliore struttura e giocare tranquilli con materiali in meno come se nulla fosse è appunto qualcosa che è un concetto una forma una filosofia di gioco che apre la mente apre la mente e aiuta a migliorare la creatività anche per questo abbiamo fatto un corso con l'accademia di matto scacco che si chiama harakiri e secondo appunto i sacrifici della tradizione giapponese dei samurai e parla appunto dei sacrifici di lungo termine qualcosa che vi raccomando tantissimo di di vedere guardiamo questo esempio caruana non fa nulla di che nulla di forzato perde un pedone gioca torre c8 è anche disposto a cambiare le donne ma guardiamo bene la posizione allora il nero ha rinunciato al suo alfiere cattivo no questo era l'alfiere cattivo che ha i pedoni sul suo stesso colore quindi il nero ha cambiato appunto il pezzo il suo alfiere peggiore innanzitutto poi oltre all'alfiere cattivo non c'è più né una debolezza di cui bisogna preoccuparsi e il bianco ha dei pedoni orribili il bianco la debolezza in sé è sparita il bianco ha dei pedoni doppiati e isolati in e3 e in e4 infatti sacrificio di un pedone è un sacrificio di una unità di materiale meno materiale sacrifichiamo e più è facile dover giocare senza dimostrare qualcosa però se sacrificassimo una torre lì dovremmo stare attenti a dimostrare qualcosa di concreto perché il materiale sacrificato è tanto qua è un pedone o mezzo pedone il materiale sacrificato perché lui pedoni doppiati inoltre il cavallo in c3 davanti al pedone c è scoordinato e non permette un buon uso della maggioranza in un futuro non ora il nero potrebbe giocare b5 b4 e creare un attacco di minoranza e attaccare appunto il punto in c2 inoltre il nero ha un alfiere bellissimo l'alfiere buono che non è ostacolato da nulla il bianco un alfiere cattivo ostacolato dai suoi stessi pedoni il cavallo nero può manovrare potrebbe andare in g4 per attaccare 3 potrebbe manovrare nell'ala di donna verso nuovi lidi verso caselle magnifiche e questa posizione di fatto è ottima per il nero che è anche disposto a cambiare materiale e entrare in un finale ecco qua tari ha giocato a4 perché perché previene possibili espansioni del nero con b5 no non ora in futuro e secondo il motore secondo il motore torre f2 per giocare torre d2 era una possibilità ma caruana sarebbe stato bene comunque vediamo un esempio proprio un esempio forse un po provocativo anche per esempio su donna per d6 torre per d6 cavallo d7 non so per eventualmente manovrare con il cavallo con calma raddoppiare le torri se il bianco gioca torre d2 qua ci sono tante idee si potrebbe giocare con re e7 con le idee già viste no torre c5 torre c4 torre c7 torre d4 attaccare l'ala di donna ma anche un'idea favolosa torre per c3 sacrificando anche la qualità ora ci sono tre unità di materiali in meno ma dopo averci 3 3 e 7 ecco guardiamo un attimo tutti i pedoni quasi tutti i pedoni del bianco sono isolati questo alfiere non fa nulla se il bianco vuole provare a cambiarlo così con re h2 alfiere h3 noi giochiamo g5 tutte le volte che il bianco giocherà re h2 alfiere h3 noi eviteremo il cambio e per esempio su re h2 noi giochiamo torre c8 sul fiere h3 g4 lui non può cambiare questo alfiere e ora possiamo ok qua il bianco ha giocato male possiamo catturare c3 diciamo che lui lo poteva difendere ma il bianco non ha piani non ha piani di gioco noi possiamo migliorare i nostri pezzi possiamo giocare torre c5 torre a5 e catturare tutti i suoi pedoni in futuro si potrà migliorare il cavallo far pressione su e4 andare in g4 e anche andare in c5 tornare indietro c'è un compenso bellissimo per i tre punti per le tre unità di materiale ovvero pedone e qualità sacrificate ma provate se avete una cosa molto interessante che potete fare e mettere inserire questa posizione su liceo success punto com sui vari siti e provare a giocare contro il computer giocate da bianco e vedrete che non c'è un piano facile e il computer ok poi ovviamente si può dire che il computer può vincere lo stesso contro tutti noi contro me contro contro chiunque in realtà perché più forte ma questa posizione è obiettivamente già buona per il nero e ripeto provare a giocare a fare partita di allenamento con il bianco in questa posizione ve lo potrà dimostrare ok quindi qua il bianco ha giocato a4 caruana gioca h5 se ne frega vuole magari a volte fare h4 tari gioca h3 caruana gioca donna per di sé torre per di sé cavallo di 7 caruana non ha fretta vuole migliorare il re forse vuole migliorare il cavallo sulla la di donna che tari gioca h4 re 7 la torre se ne va a difendere anche il pedone in c2 e il nero qua aveva tante idee però fai di giocare cavallo b6 per andare in c4 ora è la situazione inizia a essere scomoda che non so su cavallo c4 è un attacco doppio poi quando si cattura in b2 cade il cavallo in c3 su torre b1 si può seguo giocare torre d8 e il bianco dei problemi a di perché se il bianco di nuovo ha dei rimorsi e lotta per la colonna cavallo c4 cade b2 il cavallo è sotto attacco qua si vede lo sfruttamento dell'ala di donna delle debolezze nell'ala di donna anche il pedonino a4 è debole cioè una volta che è recuperato il pedone la posizione non è pari è molto meglio per il nero e se il bianco giocasse torre per di 8 torre per di 8 allora si può già iniziare a invadere la colonna d con eccellente gioco per il nero il bianco non potrebbe neanche provare a opporsi perché il nero riprenderebbe il pedone con vantaggio quindi tari in questa posizione dopo cavallo b6 gioca cavallo d5 per cercare dei cambi a questo punto caruana gioca alfiere per d5 per d5 cavallo c4 caruana gioca normalmente ma questa mossa cavallo c4 non è tanto per recuperare il pedone perché dopo torre 2 che è stata giocata e non vuole giocare cavallo per b2 su cui dopo tari potrebbe attivare le torri se l'attivo caruana voleva semplicemente giocare cavallo d6 perché caruana vuole giocare cavallo d6 e giocare appunto con un pedone in meno in questa posizione ma molto semplice prendiamo un attimo la posizione nel suo complesso allora in questa posizione il bianco è un pedone passato ma bloccato questo cavallo è fortissimo l'alfiere è pessimo non potrà mai attivarsi le torri bianche sono passive il nero potrà espandere i suoi pedoni sulla la di re poi potrà attivare le torri attaccare i pedoni bianchi tutti i pedoni bianchi la struttura bianca è molto rigida lo stesso pedone in d5 è debole l'alfiere è bloccato dai suoi stessi pedoni le torri non fanno nulla quindi qua appunto non c'è bisogno di cercare un compenso concreto si può giocare proprio nel lungo termine quel bianco gioca e4 per consolidare il pedone caruana gioca a5 e4 comunque una triste necessità perché porta altri pedoni su case bianche ora il bianco gioca torre a1 torre c4 c3 ora ci sono delle mosse di manovra caruana gioca f6 torre 3 torre c8 torre f2 g5 f3 g4 per far capire all'alfiere che non può entrare nel campo nemico f2 non si può perché bisogna sempre mantenere la difesa di e4 e alfiere g2 torre c5 ecco a questo punto caruana vuole giocare b5 ora per esempio se il bianco gioca una mossa d'attesa qua segue b5 aperto re per ok il bianco un pedone in più ma come può usarlo cioè qua il nero vuole giocare torre b8 cavallo c4 iniziare a guadagnare b2 poi ci sarà un pedone passato lontano tutti questi pedoni bianchi sono bloccabili su case nere perché l'alfiere in g2 che è pessimo non riesce a giocare sulle case nere cioè davvero un concetto devastante che 15 mosse fa caruana ha sacrificato un pedone sta giocando come se nulla fosse gioca appunto secondo un compenso posizionale non c'è neanche un attacco neanche per creare un attacco su ora proprio per motivi puramente prettamente posizionali il bianco gioca alfiere f1 per controllare b5 ora caruana colpisce la struttura bianca ora si minaccia f per e4 o f4 mettendo in moto i pedoni passati dopo i per f5 torre per d5 ora il pedone in d5 è crollato si vorrà catturare f5 si vuole entrare in seconda traversa posizione devastante ora il bianco prova a cambiare le torri caruana le centralizza si cambia un torri finalmente 4 l'alfiere torna indietro cavallo per f5 qua la parità di materiale è stata restabilita ma il nero sta molto meglio perché l'alfiere non fa molto i pezzi neri sono molto attivi c'è l'adevolezza in g3 che vincola il re bianco e quindi lascia al nero la possibilità di centralizzare il proprio re la maggioranza del bianco è difficile da sfruttare per generare pedoni passati e il pedonine 4 sarà fortissimo vediamo ora caruana come vince alfiere b5 e cavallo d6 alfiere dora delle mosse di manovra ora torre c1 il bianco aspetta re e5 notare che se il bianco prova ad attivare il suo re tanto poi deve tornare indietro no perché rimane appunto vincolato alla debolezza il bianco quindi aspetta ora caruana rimanovra la sua torre b6 senza fretta tutti i pedoni sul nero su case diverse rispetto a quelle dell'alfiere bianco ora caruana gioca torre f7 aspetta anche lui ora cavallo f5 ora si vuole entrare con tutti i pezzi b4 gioca a tari cavallo e3 scappo e cavallo d5 attaccando il pedone in c3 su b per a5 seguirebbe torre per c3 intermedia minacciando a torre qua il nero a partita vinta perché ha ristabilito la parità di materiale pronto ad attivare il suo re il pedone 4 è fortissimo il bianco ha giocato torre b3 torre c8 semplicemente b per a5 b per a5 ecco questa posizione è semplicemente vincente per il nero perché se il bianco prova il pedone in c3 sotto attacco se il bianco prova a contro giocare su a5 nero può giocare qualcosa di questo tipo il nero potrebbe prendere sul torre b5 potrebbe prendere in c3 re d4 qua c'è vantaggio decisivo del nero perché c'è un re migliore c'è il pedone che può avanzare si può attaccare l'alfiere spingere il pedone passato il bianco non potrà resistere il pedone troppo indietro il re messo male il re t di matto e tutti i pezzi neri insieme appoggeranno il pedone con esiti catastrofici per il bianco il bianco ha giocato c4 cavallo b4 ora vediamo qua una delle differenze sono date appunto dal pedone è passato forte dall'attività del re il bianco non riesce a resistere nel giocato torre b1 re d4 il re nel finale è un mostro e vale quattro punti caroana lo attiva ora l'idea può essere semplicemente accerchiare cavallo d3 per interferire con l'alfiere per interferire su questa diagonale puoi catturare il pedone in c4 il bianco totalmente dominato torre b5 ecco qua senza fretta torre c5 storre per c5 re per c5 poi cascheranno tutti i pedoni il bianco gioca alfiere per e per ora questo pedone è un candidato alla promozione bianco giocare f2 corona prendi il pedone ora il finale di pedoni è facilmente vincente perché qua non so si potrebbe giocare qualcosa di questo tipo e poi dopo si va se non serve neanche vincere col pedone d si possono andare a mangiare tutti gli altri pedoni del bianco dopo re per c4 il bianco ha mantenuto le torri dopodiché torre e5 tagliando fuori il re che non può intervenire nella difesa contro il pedone in d2 e il bianco abbandona perché il pedone in d2 prima o poi promuoverà questa partita secondo me anche se che magari qualcuno avrà annoiato perché è una partita tecnica secondo me è una partita incredibile è un livello tecnico molto molto elevato ma l'ho fatta vedere perché secondo me la bellezza di questa partita anche se magari non ha nulla di spettacolare combinazioni è stata manovrata perché un giocatore così forte come carona gioco una variante considerata sbagliata la rinnova e gioca con un pedone in meno gioca 20 mosse con un pedone in meno come se nulla fosse ma quanti di voi di noi andiamo in ansia quando abbiamo meno materiale vogliamo cercare qualcosa la posizione ancora buona ma ci affrettiamo facciamo degli errori no molto importante imparare effettuare questi sacrifici di lungo termine poi magari se perdiamo del materiale possiamo far finta di averlo sacrificato fare finta di averlo sacrificato continuare a giocare come se nulla fosse e vincere la partita comunque spero che questa partita vi sia piaciuta e a presto questa secondo me è stata una delle partite più belle del 2020 grazie e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao ciao